Non è stato probabilmente il miglior Matelica della stagione, avete sofferto l'aggressività del Monticelli, poi in 10 contro 11 avete trovato quel pareggio che vi permette di vivere ancora serenamente il primato in classifica. Non ho visto tutta questa aggressività del Monticelli, chiaramente il Matelica è una squadra che gioca a calcio a terra in questo campo qui era impossibile, è un pareggio meritato, basta. Nel primo tempo c'è stato quell'errore del dischetto, avrebbe potuto cambiare l'inerzia del match chiaramente? Chiaramente è un errore, se si passa in vantaggio è un'altra gara, sono passati in vantaggio loro, probabilmente andatevi a rivedere l'immagine fuori giochi 3 metri, 2 dai, che poi magari andate a rivedere le immagini e dite il mister è un pazzo, basta, poi abbiamo sfiorato anche alla fine con Gio e qualche altra misca, ma va bene il pareggio dai. Avete protestato molto sull'1-1, un possibile tocco di mano in area del Monticelli? No, no, si protesta perché è fine di partita, ma io protesto perché non c'erano i palloni per giocare a calcio, non so al Monticelli se si possa salvare in questo modo qua, senza palloni a calcio, ma va bene, noi domenica fortunatamente giochiamo in casa, speriamo di fare una grande partita di fronte ai nostri tifosi che siamo venuti qui a Grottamare, eravamo più numerosi di quelli del Monticelli e questo mi fa molto piacere, anche meno offensivi di quelli del Monticelli, vorrei sottolineare anche. Grazie